Mostre che la clampa a Skylone polvere va? Che vantata? Ok, hai capito? Ehi! Non arriva mai a farlo? Si, si che ti arrivi Più chiuso ancora? Più chiuso? Ah no? Vai No! Ti ha segato a pal naso! Allora, visto le difficoltà di Skylone polvere nella clampa, abbiamo chiamato il professor Sancin. Werner, dia un due dritte per favore all'alluno Sky. Sì, secondo me dovresti applicarti più nell'arte prima di tutto per aprirsi, perché è là che si vede il professionismo della clava triestina. Già mi permetti un attimo Werner, secondo me anche il moulon dovessi fare più uso di taconella, perché il movimento sifonella delle culate non so quanto lo abbia praticato in quest'ultimo periodo. Entra all'interno, quel movimento ne ha servito per schizzare! Esatto, esatto, esatto. Allora... Oh, ci siamo in acqua, prima! Fizio! Ci siamo in acqua! Eccolo! Lo stia nella presi c'è, lo stia nella presi c'è! Adesso mi raccomando, subito le taconetti sotto acqua! Mostri a molti che il taconetti... I taconetti, i taconetti! Vedi? Applicarsi nei taconetti! Molto importante! Vai Scott, ce la fai, ce la fai! Chiuso, chiuso fino alla fine, chiuso fino alla fine! Non è possibile! Non è possibile apparire sempre il taconetti! Già, già si schizza con me! Già, già si nota comunque che come i consigli del professor Sancin funzionino! Eh, ma ragazzo, ci sta dentro la scossa, ragazzo! Dopo la lezione di sostegno del professor Sancin, mi permetto di dire che è un duoro better Skylon! Lui sbaglia perché non va con peso da... Mostra, ecco! Sono la testa a infonearsi contro l'acqua senza paura! Senza paura! Oh, Dio buono! Oh, Dio, ragazzo! Calcia, calcia! Calcia! Calcia, calcia! Oh, Dio! Oh, Dio! Professor Peccine è qua! L'avate nazionale, ho sempre detto! Delle cliafro di avendo! Dai, dai! Va bene, va bene! Grande professor Peccine, grande grande! mi un che si butta clampa così non ho mai visto non ho mai visto gole prova tv guarda che non ho mai visto non ho mai visto c'è un naso tappato una roba di bocciatura e poi i camicazze dichiara qua abbiamo visto un naso tappato un naso tappato era vero o no? non è vero non è vero? non è vero guarda che... Oh